Benvenuti. Oggi cerchiamo, cerco, di parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, un argomento di cui si parla tendenzialmente molto, si dice molto, ma soprattutto è un argomento, come dire, altamente sfruttato, soprattutto in campo artistico. Oggi parliamo di amore. E uno dice, si capirà, è arrivato questo, parla d'amore. L'amore è stato uno dei sentimenti probabilmente più abusati nel corso della storia dell'uomo, a partire dall'amore espresso nelle canzoni, le grandi opere d'arte musicali, poesie meravigliose sono state scritte per amore. Romanzi meravigliosi, opere colossali, opere pittoriche, balli. Insomma, l'amore è onnicomprensivo, ha toccato un po' tutti i punti, ogni cosa, in fin dei conti, parla un po' d'amore. L'amore è quindi uno dei sentimenti a cui quasi tutti noi aspiriamo con più forza, molto spesso anche non conoscendolo. Non si sa bene, chissà se è esposto questa, non si sa bene che cosa si intenda quando si parla d'amore. L'amore lo si può raffigurare come un bacio, come l'ultima parte del dolce che qualcuno ti lascia, no? Ho letto una serie di cose di questo tipo. Il problema non è che cos'è l'amore, il problema è riuscire ad accettare l'idea che l'amore possa essere provato da tutti. Cioè, tutti quanti possiamo provare amore come possiamo provare odio, ovviamente. Come possiamo provare tutta una vasta gamma di pensieri negativi. Basti pensare a tutti quei sentimenti di cui nessuno parla mai, no? Tutti si vergognano di parlare dei sentimenti negativi, invece anche quelli fanno fondamentalmente parte del nostro essere umano, umani. Io non accordo molto bene la parola, insomma, ho qualche problema, del nostro essere umani. Il problema nasce nel momento in cui qualcuno si arroga il diritto di dire che qualcosa non è amore, che qualcosa non ha bisogno di essere riconosciuto come un legame. Purtroppo l'essere umano ha fatto sì di costruire una società e in questa società ovviamente vi sono delle regole, vi sono delle leggi, perché vivere in società significa rispettare delle leggi, per cui le leggi dovrebbero andare in realtà non ad inventare delle cose. Cioè non è che oggi scriviamo una legge e diciamo da domani il cielo diventerà, non so, color... non lo so, verde, prato e allora, siccome una legge succede. La legge va a regolamentare qualcosa che già esiste, cioè che è comprovato, la cui esistenza è comprovata. In particolar modo mi sto riferendo a questo dibattito che ultimamente si sta tenendo sulla legge che dovrebbe, bontalloro, passare sulle unioni civili. Si può evitare di parlare di queste cose su YouTube? Sì, si può evitare di parlarne, però forse si deve evitare di parlarne se si ha un pubblico dall'altra parte, io chiamo un pubblico, ma in realtà si siano dall'altra parte delle persone che vogliono sentirti dire a me mi piace la fregna, mi piace scherzare, mi piace giocare, mi sorrotta l'unghia. Quindi dipende anche dalla tipologia di persone che ha a che fare con te. Io sento di avere la possibilità di... io posso godere di un pubblico molto vasto e quindi a questo molto vasto, attenzione, non in quanto a numeri, ma in quanto a composizione interna. Quindi sento di poter affrontare un argomento che non riguarda il cibo, che non riguarda una ricetta, che non riguarda uno shampoo che si è sperimentato nell'arco della settimana, ma che riguarda una situazione fondamentale sulla quale secondo me non si può tacere, perché poi tacere diventa anche essere omertosi, diventa anche essere d'accordo con le logiche preponderanti, per cui quando su qualcosa si tace, allora quel qualcosa non esiste o non rappresenta un problema. Le unioni civili mancate in Italia rappresentano un problema. Rappresentano un problema perché è come se io avessi voi dall'altra parte e sapessi, cioè pensate che assurdità, e sapessi che dall'altra parte una persona con i capelli rossi piuttosto che grassa, piuttosto che magra, è come se io sapessi che in questo momento della sua vita non può godere degli stessi diritti di cui godo io. E quindi una persona dall'altra parte, non so, mettiamo con i capelli rossi magari, non ha il diritto di, per esempio, ne dico solo una, di ereditare l'attività, non lo so, di ereditare qualcosa dal marito. Dice, ma perché non la posso ereditare? E lo Stato ti dice, non la puoi ereditare perché hai i capelli rossi. Noi rimarremmo, no? Rimarremmo tutti i basiti, tutti quanti inizieremmo a dire, ma che cosa significa, ma che c'entra che hai i capelli rossi. Ecco, la stessa cosa avviene nelle coppie omosessuali. Lì dove c'è qualcuno che ti dice, no, tu non puoi ereditare qualcosa, non puoi fare dei progetti legalmente difesi perché sei un uomo e sei innamorato di un altro uomo, oppure sei una donna e sei innamorato di un'altra donna. Per questo motivo tu non puoi fare qualcosa. Se ci riflettiamo un attimo, è banale la situazione, però secondo me bisogna porci l'accento. Dovremmo farlo un po' tutti quanti. Io non ho tante persone, non arrivo a tante persone perché i miei numeri sono quelli che sono. Però io sento veramente il bisogno di dire, ma davvero noi nel 2016 possiamo mettere su delle battaglie clericali e così estremiste che dicono no ad un diritto e fondamentalmente ad una essenza, cioè come se domani qualcuno iniziasse a manifestare perché non si può più essere biondi o perché i biondi non possono fare dei progetti familiari, per esempio. Oppure quelli troppo alti, dice no, tu sei troppo alto, attenzione perché no, l'eredità tu non puoi averla. Cioè come? Ma io sono fatto così? Eh no, 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 dovevi pensarci prima di essere così alto. Come? Temo che si possa andare verso... temo. Si è andati verso questa deriva. Vediamo un po' i minuti qui quanti sono perché, ecco, sono già sette minuti. Stoppete. Dicevamo, si sta andando verso... si è già arrivati verso questa deriva o scena. Io credo che sia importante invece lanciare dei messaggi. Anche il fatto della difesa tradizionale, no? La difesa tradizionale, ok, ma la difesa della famiglia tradizionale. È come se si facesse finta di non sapere che un omosessuale o una lesbica nascono, cioè hanno una mamma, hanno un papà, per forza di cose, e nascono in una famiglia tradizionale. Quindi la famiglia tradizionale che si vuole difendere è anche il luogo da cui nascono persone omosessuali. Che però a loro volta una famiglia non possono crearsi. Questo è veramente diabolico. Io credo che ci sia dell'insano in questo. Cioè io non credo né a Dio, quindi né tantomeno di conseguenza al diavolo, ovviamente. Però se davvero il diavolo esistesse, secondo me lo zampino suo è questa. Questa è un'idea diabolica. Cioè tu non puoi esistere, attenzione alle parole, tu non puoi esistere come persona, come coppia, non come persona perché fino a lì, ai livelli della Russia ancora non ci siamo. Ma, ma, tu non puoi esistere come coppia perché entrambi avete un pisello. O, non so, avete una vagina. Uno dice, ma come non possiamo esistere? Esistiamo. Cioè, e qui torniamo al discorso della legge, no? La legge non è che deve inventare cose che non ci sono. La legge deve regolamentare cose già esistenti, cioè dati di fatto. Ovviamente che non vanno ad inficiare nessuno. Anche, non so, lo stupro è un dato di fatto. Cioè, nel senso, accade. Tremendamente e terribilmente. Questo non vuol dire che la legge debba scrivere ok, visto che accade c'è. Ma nelle cose positive, cioè dove non si lede nessun altro e dove c'è il raggiungimento della propria personale felicità, che per alcuni è in una famiglia, per altri magari è nello stare da soli. Però vogliamo dare l'opportunità a due persone di poter essere una famiglia anche legalmente? O quello che costruiscono nell'arco di una vita deve andare perduto perché hanno lo stesso sesso? Perché entrambi hanno le tette o entrambi hanno il ciondolo? Cioè, questa è una cosa molto preoccupante. Io ho sentito tantissime dichiarazioni in merito di una volgarità, di una bassezza, di una pochezza, veramente sconcertanti. Spesso si tira in ballo, per esempio, la religione. Un'altra cosa di cui bisogna tenere, diciamo, a freno la lingua è questa faccenda della religione. Punto primo perché la religione è stata la figura di Cristo è stata ammesso che, bla bla bla, sapete come la penso, è stata molto fraintesa sotto tutti i punti di vista. Cristo se la faceva con le puttane, poi se la faceva con i lebrosi, cioè Cristo era uno che non aveva paura. E ve lo devo insegnare io, che non sono cattolico, che Cristo non aveva paura del diverso, degli altri, delle altre abitudini. Voi che cosa state tentando? Ma poi anche questo discorso della famiglia tradizionale. Non è tradizionale, è semplicemente più diffusa, ma non è tradizionale. Cioè, nel senso, non è che i mori sono più diffusi, allora i rossi che sono meno diffusi non sono tradizionali, quindi non esistono. Cioè, esistono mori rossi. O no? Ho sempre il terrore che si spenga. Quindi, ecco, l'ultima cosa, se mi posso permettere, che voglio dire, qualcuno dirà questo è un video inutile. Potrebbe anche darsi, potrebbe anche essere un video inutile. Io quello che ci tengo a dire è che secondo me è arrivato un momento in cui non ci si può più nascondere dietro un dito. Vedete la gravità di alcuni fatti che accadono, non ultima la ragazzina. Poi noi qui su YouTube sembra sempre che non accada niente, no? Sembra sempre che si stia tutti a mangiare continuamente, a provare i biscotti nuovi della divella, a fare le unghie, gli sbalti e tricche ballacche, come diceva l'Orlando furioso di un tempo. In realtà, forse, bisognerebbe anche utilizzare questo grande mezzo che noi abbiamo per cercare di rapportarci alle persone con le quali abbiamo a che fare o che capitano per sbaglio. Io voglio fare a quelle famose famiglie tradizionali anche una domanda, che è una domanda per me retorica, perché la risposta io già la so, quindi non ne ammetto altre e mi rendo conto di essere un po' chiuso. Ma queste persone che hanno dei figli, come si fa in nome della difesa dei propri figli ad escludere qualcosa che i loro figli potrebbero essere? Cioè, gli omosessuali, le lesbiche, i gay, i trans, quello è un discorso di cui nemmeno vado ad aprire la porta su quello che devono subire i transessuali per poter vivere, ai quali non permettono nemmeno di affittare un appartamento. Ma questo, togliamo questo discorso. Ma un gay è una lesbica, ok? La cosa più semplice, l'espressione più semplice di un mondo ben più complesso, sono dei figli. Fanno parte di una famiglia, sono nati in una famiglia. E quindi, di conseguenza, questo vuol dire che voler proteggere i propri bambini va proprio nella direzione di un'apertura legale nei confronti delle unioni civili. Cioè, se tu vuoi proteggere il tuo figlio, allora devi fare in modo che un domani, a prescindere dal suo orientamento sessuale, tuo figlio possa avere dei diritti, possa sentirsi realizzato, possa esistere nel suo paese di nascita e non debba essere costretto a fare le varigie e ad andare via. O non debba essere costretto, come quella ragazzina, l'avete sentito sicuramente, vittima di bullismo, che a dodici anni si è lanciata dalla finestra e ha lasciato un messaggio con su scritto, sarete contenti ai suoi amici, amici, ai suoi compagni di scuola, vessata continuamente. Quanti omosessuali si suicidano? Quanti eterosessuali si suicidano per atti di bullismo? Quando qualcuno per strada passa e noi lo apostrofiamo, balena, ricchione, guarda questa quanto è brutta, guarda questa quanto è grassa, che schifo, che brutta, che merda, queste sono persone, ragazzi, non sta passando di lì un sacchetto della spazzatura che possiamo dire, oh che brutto colore, che schifo, eppure, ma perché lo devi dire, ma comunque. Quindi queste persone che si suicidano, cioè arrivano, ma capiamo un attimo l'assurdità, arrivano a volersi togliere la vita, perché la vita è diventata loro insostenibile, perché sentirsi chiamare tutti i giorni frocio, come sentirsi chiamare tutti i giorni grassa, cessa e merda, logora la vita, logora la voglia di vivere. Voi dite, vabbè, ma tutto questo com'è collegato? No, è collegato, perché si lanciano dei messaggi in una società, e riconoscere l'esistenza di un legame vero e effettivamente legalmente valido e socialmente riconosciuto per due persone dello stesso sesso e lanciare un messaggio contro la bestia dell'omofobia che miete una serie di vittime, alcune delle quali silenziose e nemmeno conosciute. Questo per me è allucinante. Ora io non voglio far la morale a nessuno, infatti finirò qui questo video, però io vi invito a riflettere. Tra un video di ricette, un video di prova prodotto e un video di musica del bolero di Di Ravel, cerchiamo di ricordarci che esistono altre persone e che noi dobbiamo volere il rispetto e il riconoscere, il diritto all'esistenza di tutti. Magri, grassi, biondi, rossi, omosessuali, eterosessuali, transessuali, pansessuali, tutti, tutti esistono e solo esistendo giustificano, solo per il fatto di esistere, giustificano che li si debba riconoscere. Cioè, se esistono, li si deve riconoscere. Punto. Io non entro nel merito delle adozioni, non entro nel merito delle stepchild, adoption, eccetera. Anche lì ci sarebbe un altro discorso da fare, perché la domanda anche lì sarebbe troppo complicata. Certo, io preferirei che un bambino avesse una casa calda, accogliente e non un orfanatrofio, ma forse io sono un sognatore e va da sé. Però attenzione a non difendere la famiglia tradizionale pensando che non riconoscendo i diritti altrui si faccia felice Dio. Cioè, non tiriamo fuori queste sorronzatone, per carità. Non le tiriamo fuori. Non le tiriamo fuori perché sono ridicole, qualcuno lo sovrà bene, perché riflettendo, cazzo sto a dire. Ok? Io, niente, mi dispiace tanto se Dio deluso, afflitto, ammorbato, annoiato e corrotto o reviscere. Però io ce l'avevo qui e lo dovevo dire. Cioè, bisogna prendere... c'è una frase della Fallaci che poi anche è stata... vabbè, lasciamo perdere, che dice a un certo punto tacere diventa una colpa. Ecco, io credo che tacere su questa parte, che come vedete è una parte ben più ampia del riconoscimento in sé, tacere su questa cosa stia diventando una colpa per tutti noi. Cioè, per tutti quanti. Noi trans, noi etero, noi gay, noi lesbiche, noi tutti, tutti, perché c'è una frase molto bella che dice non c'è... non c'è cosa degli esseri umani che non mi riguardi, perché sono un essere umano anch'io, quindi mi riguarda tutto. Facciamo attenzione, vi prego, facciamo attenzione a chiudere le porte, perché dietro quella porta ci potrebbe essere nostro fratello e noi potremmo non saperlo. E questo per me è devastante. Devastante. Tutto qui. Grazie e mi scuso ancora per avervi rubato del tempo, ma secondo me è tempo che andava rubato. Non riesco a dirlo altrimenti. Merci.